La storia moderna È stato dichiarato lo stato di emergenza Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corte È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera qualità La storia moderna 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 La storia moderna